Sono il disoccupato che dal giorno 30 di aprile sta occupando il tetto del palazzo comunale a Piazza Armerina in provincia di Enno. Ho dovuto salire di nuovo qua sopra, purtroppo, sul tetto perché sto subendo una vera e propria persecuzione. E siccome io ho paura che mi facciano del male, perché mi tolgono la patente con la scusa che sono ubriaco, io non ero ubriaco, il giorno dopo del ritiro della patente io dovevo essere davanti al tribunale per una protesta, davanti al tribunale per la giustizia, per la legalità e contro la proposta di sorveglianza che era stata fatta nei miei confronti che poi il tribunale ha rigettato. Quindi da oggi sono tre giorni, domani sono quattro. La protesta sul tetto passa indifferente e la cosa più ingresciosa è il fatto che stiamo chiedendo ai viveri per mangiare, ma nulla, gli amministratori sono indifferenti. Tale modalità di protesta è stata scelta per costrizione, viste le ordinanze sindacali numero 100 e numero 29 del sindaco di Piazza Armerina, che hanno comportato numerosi divieti di manifestazione e ha aumentato la disperazione dentro le case di tanti poveri che il sottoscritto conosce bene, sono famiglie, bambini, hanno le mogli incinte, non hanno niente e quando vanno al comune si sentono dire vai a cagare, si sentono dire proprio così. Le ordinanze nominate sono frutto di arroganza, non c'è dubbio, comportamento meno freghista, al fine di scoraggiarci a tutti i disoccupati, costringendoci a stangarci e poi magari commettere qualche reato. Noi non ci cascheremo più. Le ordinanze vietano l'utilizzo di megafoni per protestare pacificamente e rivendicare i nostri diritti tra le vie delle strade, per le strade della città. Quindi si precisa la massima disponibilità e la volontà a voler pagare tutti i danni provocati qui sopra camminando sul tetto delle tecole rotte. Ma c'è un'altra cosa, c'era la bandiera rossa del Che Guevara qui all'apice, siamo sul tetto, qui siamo alti, come un palazzo tipo 5 piani. Questa bandiera la facevano togliere a un disoccupato, dalla quale noi abbiamo scattato la fotografia. In entrare nella denuncia della polizia c'è scritto che è un incaricato del comune che saliva sul tetto a togliere la bandiera, simbolo della protesta dei disoccupati al fine che l'amministrazione si avviasse a fare qualcosa di congreto nei confronti dei noi disoccupati. Quindi ora poi, quando saremo in tribunale dal giudice, gli porteremo questa bella fotografia così vediamo se è veramente un incaricato del comune che saliva sul tetto, perché i danni sopra il tetto sono molto di più di quelli che si può immaginare. Cioè io cammino, faccio sempre lo stesso tratto, non vado io in giro per il tetto a fare danno. Poi c'è un'altra cosa, c'è della lamiera sul tetto che forse con i venti passati che ci sono stati nelle scorse settimane, questa lamiera è caduta nell'altro tetto che è sotto a questo e quindi mettendosi di fronte al palazzo nella parte sinistra e quindi facciamo questo annuncio alle forze dell'ordine per la sicurezza, ai vigili urbani, all'ufficio tecnico del comune di Piazzamini ad andare a rimuovere questa lamiera che è di piombo, è molto pesante ed è molto pericolante e pericolosa. Poi, quindi noi siamo costretti sempre a delingue, quindi si precisa la massima disponibilità a pagare tutti i danni qui provocati. Però per sullecitare le situazioni, sull'ingresciosa situazione nella quale si sta trovando sottoscritto come altri centinaia di disoccupati, è considerato che non si mangia, si annuncia una forma di protesta già annunciata la scorsa volta ad ottobre 2008, cioè quando avevo annunciato il lancio delle tegole, previo avviso ai cittadini al fine di non fare del male a nessuno e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Tale scelta viene fatta perché siamo oggetto di indifferenze e per richiamare l'attenzione delle istituzioni di più alto livello siamo costretti ad attivare questa forma di protesta. Visto che questi non hanno alcuna volontà, quando pare, di intervenire, anzi ci stanno negando i viveri che noi ogni giorno, da tre giorni, stiamo chiedendo i viveri perché di principio devono essere loro a portarci a noi da mangiare, non i cittadini che ci portano la borsa, chi ci porta il pane, chi ci porta il salame, ci sono i cittadini che vogliono darci da mangiare, però no, deve passare il principio, loro devono darci da mangiare perché se noi non eravamo sopra il tetto ed eravamo a casa, noi non avevamo da mangiare e non c'era nessun cittadino che ci portava da mangiare fino a casa, quindi la scelta di salire sul tetto è stata anche alimentata dal fatto che a casa manca il pane, io a casa non c'ho il pane e questi se ne stanno fregando e sono tre giorni che ci stanno tenendo a digiuno, quindi questa indifferenza deve finire e per chiamare l'istituzione di alto livello saremo cosciati ad attivare una forma di protesta molto più eclatante. Noi non vogliamo più odiare queste persone, non li vogliamo più odiare, noi siamo stanchi di odiare, ma protesteremo sempre perché deve prevalere il diritto del lavoro e della soprattutto politica sociale, fino a quando non faranno il loro dovere noi protesteremo. quello di stare vicino ai bisognosi e al loro dovere, ai giovani che continuano a demigrare, protesteremo anche dopo che saremo usciti dal carcere, se carcere dobbiamo anche provare, per il diritto al lavoro, ma non risolveranno nulla con il carcere perché non è cosa da pazzi, non appena saremo fuori, ci ritroveremo di nuovo da capo, sempre sopra il tetto, o forse ingaggeranno qualche killer e ci faranno ammazzare, non lo so, io non lo so cosa faranno, intanto oggi sono tre giorni che chiediamo da mangiare, acqua, oggi è finita l'acqua che mi ero portato qui sopra sul tetto, è finita e quindi non c'è da domani neanche acqua, ora io mi chiedo, si può essere così? è l'umanità purtroppo, allora il principio che i viveri devono darceli le istituzioni deve prevalere, perché se noi siamo giù dal tetto, non abbiamo vivere, non abbiamo lavoro, non abbiamo niente, ci negano tutti, anche perché non abbiamo come andare a procurare, cioè mi hanno levato la macchina e la patente, che la patente mi serviva per guidare, a me ora ad aprile mi è iniziata la stagione per fare il turismo, ci sono i ragazzi che vanno in gita, io ogni anno faccio di quei tre mesi presso un'azienda privata, sono un conducente di pullman, mi hanno tolto anche la possibilità di andarmi a guadagnare questo pezzo di pane, quindi loro sono quelli che vogliono che noi saliamo sui tetti e che attiviamo queste forme di protesta così eclatante, purtroppo noi non ci divertiamo, ma è così, purtroppo è la realtà, se vi pare, se vi piace, se non vi piace, questa è la realtà, sono quattro giorni che non mangiamo, quattro, quindi deve prevalere il principio che i vivi devono portarli loro, anche perché non abbiamo come mangiare.